Il Milan ha vinto anche a Verona pur essendo sceso in campo imbottito di riserve, partita dal ritmo blando tipica di fine stagione. Del Verona il primo gol, su cross da destra sono scattati contemporaneamente Negrisolo e Bet, l'ultimo a toccare è stato il milanista, nulla da fare per Albertosi. 1-0 per il Verona al trentacinquesimo del primo tempo. Il Milan ha pareggiato in avvio di ripresa, sua azione nata da calcio di punizione. Gaudino si è fermato per protestare, ma non così il lesto bigon, che inseritosi molto bene ha battuto Superchi con un gran tiro. Poco dopo, su palla abbastanza innocua, netto fallo di mano di Busatta e inevitabile rigore. Nel Milan quest'anno sono stati in tanti a tirare i rigori e con risultati tutt'altro che brillanti. Questa volta è toccato a Buriani e il biondo centrocampista si è dimostrato calmo e preciso. 2-1 e il risultato fissato all'ottavo della ripresa. Il Milan ha avuto altre opportunità per passare, come questa per Rivera. Un po' molliccio nello stacco sul cross di Buriani, ma anche il Verona ha da recriminare per l'annullamento del gol di Fiaschi che vedremo al termine di questa azione. Certo è che il Milan, ripensando la sua eccessiva prodigalità in questo campionato, non può che mordersi le dita. Grazie. 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 Grazie.